Cari amici di Fano TV, la più cordiale buonasera, un altro approfondimento in studio per parlare di politica e si continua così a conoscere i vari esponenti, in questo caso della coalizione di centrodestra a sostegno della candidatura a sindaco Luca Serfilippi, diamo il benvenuto a Luciano Cecchini della lista civica Fano Cambiapasso, buonasera. Buonasera, buonasera a tutti i telespettatori. Allora cominciamo a raccontare la sua storia, lei è un imprenditore da 40 anni, ha alle spalle 50 anni dedicati all'associazionismo, allora ci racconta un po' di lei e ci spiega il motivo della sua candidatura? Semplice, io ho sempre vissuto nell'associazionismo, pensa che la mia prima festa la feci a 17 anni a Sant'Orso e addirittura non potendo firmare perché non ero maggiorenne ebbi la firma di un carissimo amico da quella volta sia in parrocchia a Sant'Orso assieme a Don Luigi e Don Achille, le cose sono progredite e diciamo non ne sono mai venuto fuori e mi sono innamorato delle varie manifestazioni che insieme a tanti altri abbiamo creato, vedi il Festi Vallato, quindi Organizzazione Vallato che è ancora in auge, a Sant'Orso con il Circolo Acri e l'associazione sportiva, siamo stati primi a metterci insieme e chi non si ricorda Sant'Orso in festa con la gruppa e poi il mio amore che non mi scorderò mai, il Carnevale. 35 anni di ente carnevalesca, qui lasciatemi ringraziare Fofo Cristiano che è stato il mio tradugnon per farmi entrare in questa associazione e poi la scuola guida me la fece Alberto Berardi. Ecco perché questo innamoramento del Carnevale che deve essere e anzi deve ritornare per forza e lasciatemelo dire questo per forza la festa leader, la prima festa di accoglienza, la festa più importante della nostra città di Fano. Ecco quindi in tutti questi anni diciamo che la cittadinanza l'ha accolta, lei si è fatto conoscere per la sua vita professionale ma anche per questo suo attivismo, come mai ha deciso di scendere in campo alle prossime elezioni? Solamente Luca Serfilippi ci è riuscito, devo dire la verità, sono tanti anni che si diceva dai mettiti in lista di qua, mettiti in lista di là, io non ne faccio un problema, ma onestamente ho sempre preferito aiutare la politica dall'esterno, mentre invece con Luca, visto che lo conosco e vi garantisco che è una persona, un uomo veramente in gamba ed è sicuramente un sindaco ottimo per la nostra città, non sono riuscito a dirgli di no. Mi ha chiesto di aiutarlo, io pensavo di aiutare come gli altri e poi alla fine mi ha detto no no, tu ti metti in lista perché creiamo proprio una lista civica, perché appunto Fano cambia passo è una lista civica, dove io appunto sono fautore, fondatore con altri 23 colleghi. In questa nostra chiacchierata lei ha piacere di sottolineare l'importanza di andare a votare. Sì, perché sento troppo spesso, giovani, meno giovani, ragazzi, ma anche adulti, no ma dai io non ci vado tanto cosa vai a fare che qui non cambia niente. No, è un diritto dovere e poi è importante di non dare la scelta alla folla. Abbiamo un diritto ben preciso, date il voto a chi volete, mandate a votare. Questi suoi anni in cui l'hanno vista protagonista nelle organizzazioni di eventi coinvelgendo insomma tutti i quartieri della città, quelli in cui si è trovato appunto ad adoperarsi, la fa sottolineare l'importanza appunto dei consigli di quartiere. Che cosa intende? Vi prometto che se avrò i voti il mio primo impegno è proprio di ricreare, riorganizzare i consigli di quartiere. Perché? Perché io sono nato proprio lì. La prova generale l'abbiamo fatta, chi si ricorda, con gente di quinta. Cioè abbiamo unito queste realtà associative di un quartiere e siamo esplosi. Ecco perché è importante che ogni quartiere della città abbia questo consiglio che serve appunto per far da tramite, da informativa per il comune, non tralasciare niente e vedrete che anche la città vivrà e respirerà molto meglio. Tra le idee del suo programma c'è anche quella di un teatro polivalente. Che cos'è? È quello che ci manca. È quello che ho sempre chiesto, sofferto, perché l'abbiamo inventate tutte. È il palatenda dove è stato il parcheggio Van Vitelli che è crollato con la neve. È il palatenda davanti alla rocca e giù al mare. E sono stati dei pagliativi per creare appunto dei contenitori per organizzare manifestazioni nella manifestazione. Perché il carnevale è ok la sfilata, ma occorre al carnevale appunto tutto il contesto. Io mi ricordo il Politeama, le feste al Politeama, ma avevano sempre una capienza minima. E poi cambiare scena via con i giovani, perché sapete che oltre al veglione tradizionale c'è la festa giovani. Poi l'abbiamo trasportato all'Utel Regina, ma non era mai un nostro contenitore dove poter fare tutto l'anno, perché affano, manca. Pensate, Cattolica ha i suoi studios. Andiamo a Senigallia, 800, 900, 1000, TEA. Noi purtroppo nulla. E questo è una grossa mancanza, perché abbiamo dei giovani meravigliosi, organizzatori perfetti. E vi posso dire, anche da un'esperienza che ho avuto poco tempo fa al Vallato, un'organizzazione perfetta, perché anche i giovani sanno organizzare e sanno divertirsi. Questo contenitore deve nascere il prima possibile per dare finalmente ai ragazzi, ai giovani, ai meno giovani, ai più anziani, di organizzarsi senza per forza, per divertirsi, andare altrove. È tutto qua. Ci sono altri due punti di riferimento della nostra città, la Rocca Malatestiana e la Corte Malatestiana. Cosa possiamo dire a proposito? Allora, la corte deve essere riaperta immediatamente, perché forse mi ricorda la mia infanzia, perché io facevo parte del coro Masetti e lì nel 1969 ho cantato al Pinocchietto d'Oro. Ecco, è un bellissimo posto, con un sonoro perfetto e vi assicuro che se si riesce a riadattarlo a teatro non è sicuramente sbagliato, perché ci si può fare il cinema in estate, ci si possono fare dei concerti, ci si possono fare opere, perché lì ci hanno fatto anche l'opera, e quindi io spero che venga riaperto il prima possibile. La Rocca è la sesta meraviglia della città. Adesso la usiamo in estate e va benissimo. Quella lì deve essere un contenitore che deve funzionare 12 mesi. Come? Installando subito una tensostruttura appropriata, con tutti i carismi, dove crearci un teatro, penso sui 7-800 posti, che potrebbe essere da invidia a quello di Senigallia. Ecco, una città ipoteticamente così attiva, così ricca di luoghi e sicuramente anche di eventi, va bene per i cittadini ma anche per i turisti. Cosa diciamo per quanto riguarda l'accoglienza turistica? Quali sono i punti cardine per lei? Tutti questi che io vi ho allencato momentaneamente mancano, perché Fano è una delle città, no, è la città più bella, appunto. Deve ritornare ad essere vera e non solo sulla carta, la terza città delle Marche e vi assicuro che tutta la gente che io incontro e ne incontro tanta rimangono sbalorditi dalla bellezza monumentale, arte, il gioiello del nostro teatro. Non so, posso star qui a parlare le ore, dalla bellezza e i complimenti, bellezza e i complimenti. Cosa ci manca? Ci manca purtroppo le strutture. Io questo lo dico e l'ho sempre sostenuto, o meglio ancora, diamo la possibilità di un restyling, ma diamo anche la possibilità di crearne delle nuove, perché oggi chi viene in vacanza o vuol venire a visitare la città, mi ricordo i gruppi che venivano al carnevale, dico il Presidente allora cosa mi consiglia? Perché noi vorremmo la spa, vorremmo un quattro stelle, vorremmo lì, vorremmo là, beh, queste richieste le dico subito, mi hanno sentito altrove, perché da noi già sono tutti occupati, dicevo delle bugie, ma purtroppo è questo. Quindi io spero che i nostri imprenditori, che sono bravissimi, e lo sottolineo, perché non è facile oggi gestire un hotel, spero proprio che assieme al comune, provincia e regione, si riesca finalmente a creare questo benedetto polo turistico vero. Pista dei Cocard, lasciatemelo dire, 2024, basta, è ora di dargli un volto nuovo. Sassonia, Lido, sono delle cose perfette a misura d'uomo, noi non dobbiamo copiare a nessuno, io dico sempre, noi abbiamo la nostra identità, il nostro modo di fare turismo deve rimanere tale quale, però aggiungiamoci queste piccole pillole per far sì che diventiamo anche noi da invidia dei paesi lemitrofi. Lei pone l'accento anche sulla rivalutazione del centro storico. Tanto, tanto. Cioè il centro storico, secondo me, è la nostra carta di identità della città, dove la gente che arriva deve essere accolta nel miglior modo possibile. Quindi, va bene il restarli del pincio, tutto quello che volete, ma bisogna fare i bagni pubblici, che non ci sono, non va bene in una città che fa turismo. Poi dobbiamo organizzarci, non so come, non ho la bacchetta magica, comunque sia, i nostri siti, e devo dire che ultimamente, grazie alla Presidente del Teatro, ho visto il teatro molto più volte aperto, aperto per le visite, perché chi visita il nostro teatro della fortuna rimane scioccato, rimane meravigliato. E quindi questi siti devono essere visitabili sempre. In modo particolare, luglio-agosto non c'è festa che mettiamo chiuso, non ha senso, perché chi viene a Fano deve, oltre ad andare al mare, quello che vuole, ma la visita della città, del centro storico, non può essere persa, soprattutto facendogli visitare la nostra pinacoteca, il nostro museo, il teatro, il duomo, la piazza, la nostra fortunata, e quindi mi auguro che queste cose si possono mettere subito, immediatamente in moto. Come se la immagina la nuova Fano se vincesse la sua coalizione, la coalizione che rappresenta? Meno chiacchiere e più progetti, meno social, leoni da tastiera, e più verità e più trasparenza, senza nessun problema. E prima di scrivere male sulla nostra città, pensiamoci tre volte, perché non è che si fa male alla persona, a me o a Tizio Caio Sempronio, che si scrive il messaggino, ma si fa male a tutta la città. Questo non deve assolutamente esistere. Gli ultimi 30 secondi per fare un appello al voto. Allora, se ritenete che io possa dare alla mia città questo slancio nell'attività, nel modo di operare, nel ricreare i consigli di quartiere dove io ci punterò tantissimo, non fate altro che fare una croce sulla lista civica Fano Cambiapasso, Lucas e Filippi Sindaco, e di fianco scrivere Cecchini. Basta Cecchini, che poi sono io. Grazie allora per essere stato con noi, grazie del suo intervento, grazie a Riccardo Sora in regia e a tutti voi per l'attenzione. Vi auguro un buon proseguimento con i nostri programmi. Arrivederci.